La scomparsa del 50enne Maurizio Parente che frequentava l'isola d'Ischia anche per via del fatto che uno dei suoi due figli, il più piccolo, vive proprio sull'isola verde. Faremo il punto della situazione sull'ennesimo vertice che c'è stato in merito alla questione degli operatori di Villa Mercedes senza stipendio, lo ricordiamo, da ben 5 mesi che attendono di sapere anche il loro futuro. Parleremo poi del ricordo dell'avvocato Nicolaniello Buono, tributeremo il giusto omaggio a Pasquale Cenatiempo e al suo vino Calimera, poi il Meeting Estate e la pagina sportiva. Tutto questo tra poco, dopo la pubblicità. L'Hotel Solemar apre agli ischitani e a tutti coloro che vivono sull'isola d'Ischia. Scopri l'Hotel Solemar e vivrai momenti unici di benessere, relax e di grandi emozioni. Per la cura del tuo corpo, scegli il nostro attrezzatissimo centro benessere, la sauna, il bagno turco, le nostre terme, le attenzioni del nostro personale altamente qualificato ed inoltre piscine, solarium, palestra e per i più romantici, l'Hotel Solemar organizza presso il suo elegante ristorante cene a tema con serate danzanti. L'Hotel Solemar ti aspetta anche per piccole cerimonie ed eventi. Per informazioni telefona al numero 081 99 18 22 o invia mail a info at hotelsolemar.it. L'Hotel Solemar apre a tutti un mondo di emozioni e benessere. Sull'isola Vischia a Forio, centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine. Il centro Ecorad dispone di una risonanza magnetica aperta dagli altissimi standard tecnologici. Analisi cliniche approfondite per encefalo, colonna vertebrale, addome inferiore e strutture osteoarticolari. La risonanza magnetica aperta è ben tollerata dai pazienti claustrofobici. Il centro diagnostico Ecorad effettua esami di radiologia digitale, ecografia, ecocolordoppler, TAC multistrato, dentascan, MOC o zonoterapia per ernia del disco. Diagnosi per la prevenzione della neoplasia mammaria con mammografia digitale, ecografia ed elastometria mammaria. Ricorda, la prevenzione è la terapia più efficace. Ecorad è in rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, tecnologia all'avanguardia per la tua salute. Ecorad, il tuo nuovo punto di riferimento per tendostrutture e tende. Ecorad realizza la tendostruttura per ampliare il tuo esercizio commerciale. Lavori anche fuori squadro e con campata senza pilastro centrale. Ampia scelta di tende per giardini e spazi aperti. Ecorad è concessionaria delle principali aziende del settore. Ecorad mette a tua disposizione un'equip di artigiani per adeguare le strutture alle tue esigenze. Ecorad, artigiani per l'ambiente. Ecorad è un marchio Ecoferro. Per il tuo esercizio commerciale, per il tuo giardino, rivolgiti a Ecoart. Mille soluzioni per offrirti solo la soluzione migliore. Solo dal caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet trovi la vera mozzarella di bufala ischitana. Un prodotto realizzato nel nostro caseificio a Piedimonte Barano. Solo con latte di alta qualità proveniente dai pascoli dell'aria del Cilento. E cogli le nostre straordinarie offerte di giugno. 500 grammi di bocconcini, 200 grammi di prosciutto cotto, 200 grammi di mortadella, 200 grammi di fesa di tacchino, 200 grammi di salame a soli 9,99 euro. Oppure un chilogrammo di mozzarella De Martino, 250 grammi di prosciutto crudo dolce, 250 grammi di ricotta De Martino a soli 13,99 euro. Ed inoltre tante altre offerte super convenienti ed una vastissima offerta di salumi, pasta fresca e vini. Siamo aperti anche la domenica fino alle 14 a Piedimonte Barano, caseificio Ciro De Martino Ischia Gourmet. Per la tua spesa buona e conveniente. Trattati da re, ora puoi. Il jolly re Ferdinando apre la spa a tutti gli isolani. Perché accontentarsi di meno? Relax, benessere e bellezza. La cura del corpo, oltre ogni aspettativa. Una spa dedicata a te, di ben 2000 metri quadrati, a prezzi eccezionali. Jolly re Ferdinando Spa. Trattati da re. Unования alleine di Robertson. Trattati da re. Salute Paolo. Trattati da re. Claenga la Sara. Trattati da re. Tänja Ruhi. Tragedia in autostrada, muore istruttore bodybuilding legato a dischia Maurizio Parente, 50 anni, è stato travolto da un tir mentre cambiava una ruota della vettura, lascia due figli, il più piccolo vive a dischia Villa Mercede, in prefettura si decide il destino dei lavoratori, muro contro muro tra ASL e cooperativa, i sindaci lanciano una proposta, l'ASL paghi gli stipendi, la cooperativa stipuli una fideiussione, venerdì l'incontro decisivo Calimera, Cenatiempo tra i 50 vini bianchi migliori del mondo, il vino ischitano individuato tra 16.500 prodotti differenti da una giuria di 280 professionisti provenienti da tutti i continenti, alle cantine Cenatiempo è dedicato uno speciale che andrà in onda dopo il TG. Il Lions Club Ischia ricorda Nicola Niello Buono, a 4 anni dalla scomparsa il club isolano ha chiamato a raccolta amici, familiari e colleghi per ricordare quello che veniva definito l'avvocato dei contadini. All'acqua meno la 38esima edizione del meeting estate, l'appuntamento ideato dall'avvocato Franco Campana nel 1982 tra gli ospiti Claudio Pasqualin, Enrico Varriale e Matteo Mariani. Ieri sera incidente mortale, apriamo con la cronaca sull'autostrada adriatica A14 in direzione sud, è morto Maurizio Parente, 50 anni, istruttore di bodybuilding di quarto, lascia due figli, il più piccolo vive sull'isola di Ischia. La vittima dell'incidente tornava dalla fiera del fitness di Rimini insieme al suo figlio più grande, inutili i soccorsi, l'impatto è risultato fatale. Parente era particolarmente noto a quarto dove gestiva una palestra in Corso Italia. A dare notizia della sua morte, come già aveva anticipato il quarto potere, è stato il figlio sui social che ha annunciato anche come l'esercizio resterà chiuso fino a data da destinarsi. La tragedia è avvenuta tra Ancona Sud e Loreto nella giornata di ieri, poco dopo le 13. Parente viaggiava con il figlio ed una ragazza, era fermo sulla corsia d'emergenza e stava cambiando una ruota alla sua vettura, quando è stato travolto da un tir guidato da un autotrasportatore di Brindisi. Anche il ragazzo e la ragazza sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, e sono stati trasferiti in ospedale in stato di shock. Sul posto sono giunti la polizia stradale, i vigili del fuoco e l'ambulanza del 118. La salma di parente è stata trasferita all'obitorio di Civitanova Marche, da dove partirà domani per quarto. In palestra alle 17.30 ci sarà l'ultimo saluto, mentre giovedì saranno celebrati i funerali alla chiesa parrocchiale di San Castrese alle ore 12. Tantissimi i messaggi di commiato, che dicono un grande uomo, una grande persona, aveva idee grandi anche per la palestra. Un esempio in questo sport, buon viaggio coach, grazie di tutto. Il tenore dei post, questo di Cordoglio, dei suoi amici e conoscenti. Anche la società ASD Futura Ischia ha trasmesso il suo messaggio di Cordoglio alla famiglia, visto che il figlio più piccolo di Maurizio Parente è iscritto alla scuola calcio isolana. E si è svolto stamani in prefettura a Napoli l'incontro sulla questione dei lavoratori di Villa Mercede, tra l'ASL e la cooperativa. Al termine dell'incontro si è dato tempo fino a venerdì all'azienda sanitaria per decidere se accettare o meno una proposta avanzata dai sindaci per uscire dall'impasso. I primi cittadini isolani hanno suggerito all'ASL di pagare le mensilità arretrate ai lavoratori e nel contempo la cooperativa dovrebbe sottoscrivere una fideiussione a garanzia dell'esborso dell'azienda sanitaria. Per i dettagli seguiamo il servizio. Tutto come previsto. Si è concluso con un patetico nulla di fatto l'incontro, l'ennesimo promosso per stamani in prefettura per tentare di risolvere la problematica dei lavoratori di Villa Mercede. Sul tavolo della trattativa almeno la necessità di pagare i cinque mesi di stipendio arretrati. Ma da questo punto di vista l'ASL è rimasta sorda ed irremovibile. Avanziamo dei crediti dalla cooperativa che gestisce il servizio. Non siamo disponibili a versare altri soldi non dovuti, hanno chiarito il direttore amministrativo Francesco Balivo con il dottor Russo. La famosa relazione che descrive un servizio, quello di urno deficitario, per cui i vertici dell'ASL hanno deciso di sopprimerlo. Per questo ha chiesto la cooperativa la restituzione di somme versate dall'azienda sanitaria per un servizio non svolto nei mesi addietro. Ci sono poi pendenti una serie di ricorsi in sedi penali civili che imbavagliano la questione e la rende difficile da districare. C'è poi la questione del nuovo appalto, con una nuova ditta vincitrice che attende di entrare all'opera. Ma la Civitas resiste e si oppone, fino al Consiglio di Stato. A rappresentare con accorata concretezza la condizione insostenibile dei lavoratori, che continuano a prestare la loro opera quotidiana senza avere il minimo per mettere il piatto a tavola, sono stati i sindaci e i sindacalisti. In particolare è arrivato proprio dai primi cittadini una proposta operativa in grado di uscire dallo stallo in cui è precipitata l'interlocuzione tra l'ASL e la cooperativa. I sindaci hanno proposto che l'ASL versi la quota corrispondente agli stipendi e al necessario per il funzionamento della RSA a fronte di una fide di uscione da parte della cooperativa a tutela dell'operazione contabile aziendale. La proposta ha spiazzato l'esponente dell'ASL, arrivato al tavolo invece con una chiusura netta, che ha dovuto invece prendere in considerazione l'idea, pur riservandosi una verifica più attenta con gli esperti di fratta maggiore. Una piccola ma significativa apertura sulla quale si è registrato anche l'interesse del viceprefetto. I sindaci concordamente hanno sollecitato Balivo a fornire una risposta definitiva entro venerdì 7 giugno. Da parte loro i rappresentanti sindacali hanno chiarito che non si potrà chiedere ai lavoratori di continuare a sacrificarsi senza essere pagati, sottolineando le possibili ripercussioni negative sulle prestazioni erogate. Peraltro anche gli amministratori isolani hanno insistito con forza sulla necessità di garantire il pieno funzionamento di Villa Mercede e la salvaguardia di tutti i servizi all'utenza. Al termine dell'incontro si è alzata con grande civiltà e scoramento la voce di Maria Grazia Barbieri, che ha esplicitato lo stato di disperazione in cui si trovano i lavoratori. Il Cudas, presente all'incontro con la presidente Gianna Napoleone, esprime ancora una volta il pieno sostegno alla battaglia dei dipendenti e per la salvaguardia dei livelli di assistenza attuali a Villa Mercede. Un vino di Ischia figura tra i 50 vini migliori del mondo. Si tratta del Calimera Doc 2017 delle cantine Cenatiempo, individuato tra 16.500 prodotti differenti da una giuria di 280 professionisti provenienti da tutti i continenti. Unico vino del Sud Italia, il Calimera Cenatiempo, è un vino bianco in purezza di qualità biancolella. Alle cantine Cenatiempo è dedicato uno speciale che andrà in onda dopo il Tg delle 20 e 30. Intanto seguiamo uno straccio con l'intervista a Pasquale Cenatiempo. Parliamo di questo premio. La bottiglia Calimera, il vino Calimera è tra i 50 migliori bianchi del mondo. Sì, è tra i migliori 50 del mondo secondo appunto questo concorso. è fatto da Decanter, che è questa rivista inglese ma con tiratura e diffusione internazionale, per cui le giurie che compongono i panel di degustazioni sono di estrazione internazionale. I più grandi Master of Wine, Master Sommelier, fanno parte di queste giurie. Il premio è importante perché quest'anno erano oltre 16.000 campioni esaminati, vengono esaminati tutti alla cieca secondo delle regole molto rigide, classiche inglesi, per cui la soddisfazione è grande. È anche vero che negli ultimi tempi i consensi che avevamo dai nostri clienti, dai vari avventori che passano in cantina erano sempre più convinti, per cui va bene così. Sono felice per il premio, soprattutto per tutti quelli che ci stanno in cantina intorno a noi. Come sommelier dovessi presentare questo bicchiere di vino, il suo sapore, i suoi profumi, come ce lo racconteresti? Questa è la cosa più complicata perché non sono un sommelier, sono solo un produttore. Io in tutto questo mi avvalgo sempre dell'opera di tutti i professionisti che ci sono intorno a me. E infatti prima, tra gli altri, devo sicuramente spendere qualche parola poi per il nostro enologo Angelo Valentino che ovviamente con i dettagli che ci ha aiutato, che ci ha suggerito nella lavorazione ha permesso di arrivare a questi risultati che sono stati, ripeto, una crescita lungo tutti gli anni di produzione. Questo vino è il nostro, secondo me, l'interpretazione del vino di Ischia, una biancolella, caratteristiche sono sicuramente la freschezza, la mineralità e io credo che sia la ricchezza, l'intensità di questo vino che lo ha reso forse così piacevole anche al palato dei giudici. Possiamo dire che l'azienda Cenatiempo sta crescendo proprio con la scoperta del territorio. Scopre il territorio e produce un vino sempre migliore. Sì, diciamo che è la nostra filosofia produrre a Ischia e produrre con le uve tradizionali i vitigni autoctoni nostri. È il nostro, possiamo dire, core business. Giusto in conclusione, finiamo un brindisi per il vino, per la nostra isola, per le nostre terre, per la nostra uva. Assolutamente, è l'augurio che proseguiamo così, che riusciamo come comparto veramente a far crescere ancora l'isola, perché credo che meriti per la terra che ha, per le esposizioni che ha, un successo sempre maggiore, me lo auguro. Il presidente Michele Regine ha convocato il Consiglio Comunale di Forio per mercoledì 5 giugno, per domani alle ore 10, nella sala al molo borbonico. All'ordine del giorno, l'approvazione del bilancio 2018, il rinnovo dei componenti della Commissione per il Paesaggio, l'istituzione del Forum dei Giovani, il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Luongo, una serie di debiti fuori bilancio e il gemellaggio con la città di Matera. A quattro anni dalla scomparsa, stamani al polifunzionale di Ischia, è stato ricordato l'avvocato Nicola Niello Buono, già sindaco ed assessore di Barano ed esponente della Coldiretti Isolana. A volere questo momento di celebrazione, il Lions Club, che ha chiamato a raccolta gli amici e i colleghi e i familiari di quello che veniva ricordato come l'avvocato dei contadini. Ascoltiamo a proposito il ricordo di Gerardo Sorrentino, presidente dei Lions e vice sindaco di Ischia, Luigi Di Vaia. Il ricordo di un uomo importante che ha dato tanto alla sua comunità, ma non solo, anche ai coltivatori diretti. Il ricordo di Nicola Niello Buono. Dottor Sorrentino, in uno, una mattinata dedicata veramente ad un uomo che ha fatto tanto per la sua comunità. Una mattinata dedicata ad un uomo che ha fatto tanto non solo nella sua comunità, dal punto di vista professionale, dal punto di vista civile, l'impegno nel nostro Club Lions, che è stato anche presidente. E quindi oggi è una giornata che abbiamo voluto fermamente organizzare, proprio in memoria di Nicola Niello Buono. Un caro amico, una persona di un alto spessore professionale, una persona impegnata dal punto di vista anche sociale, dal punto di vista dell'organizzazione di tanti eventi sull'isola per quanto riguarda il nostro Club Lions. Dal punto di vista professionale, come ottimo avvocato. Non ci dimentichiamo che è stato un sindaco, il sindaco del comune di Barano, per un periodo di tempo. Dopodiché è sempre impegnato, diciamo, dal punto di vista col diretti, in qualità di rappresentante, diciamo, del rappresentante dei coltivatori. Il buon Nicola Niello si chiamava a dire Colaniello, diciamo, l'avvocato dei contadini. Ma che lui ne era fiero, ne era orgoglioso e li portava avanti, li portava ovunque, per far sì che l'isola di Ischia avesse sempre un ruolo fondamentale in questa associazione. L'amministrazione comunale di Ischia è stata ben lieta, anzi onorata, di poter ospitare questo evento. Il Colaniello Buono, sindaco di Barano dal 94 al 98, si è distinto per il suo impegno a tutela dei coltivatori diretti e delle fasce più deboli della nostra società. Si è formato in un ambiente cattolico, ma ed ha perseguito lo spirito e il messaggio che il cattolicesimo migliore ha saputo esprimere. E mi riferisco in un special modo, come dicevo prima, alla difesa dei più deboli e di quella classe di lavoratori che all'epoca era probabilmente quella sottoposta ai maggiori sacrifici da un punto di vista lavorativo ed economico. Per cui questo concetto si sposa molto con gli ideali che mi hanno formato culturalmente e politicamente. Quindi ho ancora di più piacere di presenziare a questo evento in ricordo dell'Avvocato. Sulla problematica dell'accesso negato sui traghetti di linea dell'ambulanza con paziente a bordo interviene Aldo Presutti del movimento Dai una svolta alla nostra isola. Sono indignato e invito ad intervenire con urgenza affinché venga fatta chiarezza su una circostanza che ha un che di folle. Invito tutti i sindaci ad intervenire immediatamente. Voglio ricordare che domani potremmo essere noi su una di queste ambulanze, sindaci compresi. A 25 anni dalla morte di Massimo Troisi il sindaco di Procida Dino Ambrosino lo ricorda a margine delle riprese del film Il Postino girato proprio sull'isola di Graziella. Di quel 4 giugno del 94 ricordo che fu la radio a darci la notizia della morte di Massimo Troisi mentre eravamo in viaggio con i miei genitori. L'evento coinvolse in modo particolare la nostra comunità perché il grande attore aveva finito da pochi giorni di girare a Procida il Postino. Se ne parlava dei suoi affanni sul set e della dedizione a quel film che fu il suo testamento artistico. Una bella storia d'amore e di politica con una celebre colonna sonora che qualche anno più tardi Fabrizio Borgogna volle legare per sempre a Procida intestando a Massimo Troisi la piazzetta della Corricella e al Postino la discesa del Pozzo Vecchio. Quest'anno al Procida Film Festival ci sarà un tributo speciale per Massimo e Fabrizio perché tutte le persone eccezionali lasciano, conclude il sindaco, ricordo indelebile a chi le ha conosciute. E' sempre a Procida il 17 ottobre scorso su una proposta dell'assessore Rossella Lauro la Giunta ha deliberato l'opportunità di aderire al piano per il lavoro della Regione Campania. Successivamente sono state inserite sulla piattaforma predisposta le esigenze del Comune elaborate nel documento Fabbisogno del Personale 2019-2021. Il discorso è stato deliberato dall'amministrazione procidana all'avviamento delle procedure per il concorso unico territoriale per le amministrazioni della Regione Campania promosso dalla Giunta regionale. L'assessore Lauro ha commentato per il Comune di Procida è un'ottima occasione per rigenerare il personale ed integrarlo con nuovi dipendenti già formati. Occasioni uniche per i giovani che sono in cerca di una occupazione. E sulla situazione economica del Comune di Procida interviene il consigliere di minoranza Menico Scala. Il risultato economico conseguito nel 2018 è peggiorato. Parlare di un bilancio economico di un ente e cercare di farsi comprendere dai cittadini non è mai una cosa semplice, a meno che non si faccia dell'insano populismo a base di slogan, mettendo insieme numeri, punti e virgola fino a quando il totale non somma l'importo desiderato. E' grave, continua Menico Scala, che un rappresentante delle istituzioni come il delegato del sindaco manipoli a fini propagandistici i dati oggettivi trasformandoli in bugie e veleni. Davvero l'ennesima brutta pagina che questi amministratori stanno consegnando alle cronache, certamente non alla storia, commenta sempre Menico Scala, della politica. Procidana. Per fortuna c'è qualcuno che è contento di quello che sta facendo. Da domenica 9 giugno è attivo presso la stazione marittima di Procida per il quarto anno un piccolo punto di conferimento per i rifiuti delle frazioni secco non riciclabile e multimateriale, vale a dire plastica, alluminio e metalli, anche organico. Il servizio è rivolto ai contribuenti tari non domiciliati sull'isola che sono in partenza al termine del fine settimana. Esibendo copia della bolletta o del contratto a sé intestati ed il biglietto di partenza si potranno conferire tali tipologie di rifiuto dalle ore 17 alle 19 nella giornata di domenica. Il servizio è fornito con l'ausilio della Tecra SRL grazie al contributo volontario dei ragazzi della Proloco di Procida, disponibili altresì ad assistere, informare e dare chiarimenti all'utenza. È in corso la 38esima edizione del meeting estate, l'appuntamento ideato dall'avvocato Franco Campana nel 1982 che anima la bella stagione dell'Isola Verde con tanti nomi illustri che ruotano intorno al mondo del calcio tra giocatori, allenatori, medici, procuratori e giornalisti. Seguiamo il servizio. È un impegno duraturo che nasce dai mondiali dell'82 grazie all'imprinting di Guido Persisimone e che è riuscito a creare un momento di incontro che ancora persevera sui temi del calcio facendo incontrare i big dello sport attraverso le sue componenti, l'organizzazione, la direzione, il gioco, la medicina sportiva, tutte le argomentazioni. Si viene qui a Dischia per far incontrare i professionisti alla fine del campionato per mettere a confronto le proprie idee. Il giornalismo sportivo secondo me sta bene nel senso che di giornalismo ce ne sarà sempre più bisogno e ce n'è bisogno ovviamente perché serve interpretare i fatti. Oggi ci sono molte informazioni, molte notizie, secondo me c'è meno capacità di capirle e quindi quello che oggi chiesto ai giornalisti è di capire i fatti, interpretarli e magari riuscire anche a offrire una visione delle cose, quindi perché le cose accadono. Mi sento ferito dalla piega che ha preso l'informazione sportiva, l'informazione in generale e l'informazione sportiva in particolare va sicuramente ripensato il sistema. Una delle professioni che più di tutte ha subito il rinnovamento tecnologico. Oggi non c'è il giornalismo sportivo, ci sono vari modi di giornalismo che si possono declinare attraverso questi qui, attraverso la telecamera e il microfono, attraverso la penna, attraverso il lavoro dell'agenzia. La grande difficoltà è che oggi la massa di informazione che arriva a ognuno di noi, adesso più che da giornalista parlo da cittadino, è talmente grande che avere la capacità da parte di chi fa informazione in maniera professionale di essere un punto di riferimento, cioè di discernere, soprattutto di ordinare le notizie. E non è semplice perché una volta il discorso si poteva articolare su 50-100 notizie di interesse nazionale e oggi 50-100 notizie arrivano al minuto. E questo rende tutto un pochino più complicato, per certi versi anche però un po' più affascinante. Può essere solo colpa del web? No, non è solo colpa del web, il web ha dato una bella botta, ma anche perché i giornali forse non sono fatti come la gente vorrebbe che fossero. Allora, io penso che il web sia una grandissima opportunità, quindi non sono uno dei luddisti che dicono che bisogna bloccare il web, anzi, bene, il web porta informazioni, porta notizie, porta conoscenza, porta accesso molto più facile, tanto per dire oggi uno può fare informazione da solo, individualmente, senza più bisogno di avere alle spalle un'industria come era un tempo, un tempo avevi un grande giornale, una grande televisione oppure non riuscivi a comunicare, oggi lo puoi fare in maniera autonoma, l'unica cosa è che bisogna mettersi d'accordo sul web, cioè il web va bene il concetto che non deve avere i costi della parte fissa, però dico anche che non può essere tutta gratis la comunicazione. Con l'Ellas Verona che torna in Serie A c'è gloria anche per il dottor Venanzio Iacono, isolano di successo che da anni opera presso il centro diagnostico-terapeutico Sacro Cuore Don Calabria di Negrar, in provincia del capoluogo Scaligero. Dopo il match vinto per 3-0 contro il Cittadella, anche per il professionista Ischitano, collaboratore della società Giallo Blu, si può festeggiare insieme a Matteo Bianchetti, le avete visti, e Mattia Zancagni. È in fase di promozione il torneo Gold Soccer, manifestazione di inviti riservata ai tesserati FIGC e ad una selezione speciale di vecchie glorie, tra gli tanti gli ex professionisti, scusate, isolani e non, che scenderanno in campo scontrandosi con gli elementi migliori delle formazioni isolane di eccellenza e promozione. Tra gli invitati non poteva mancare un grandissimo appassionato di calcio come l'atleta paralimpico Gianni Sasso. Siamo con Gianni Sasso, chi non lo conosce Gianni Sasso è un esempio per tutti noi, parteciperà anche lui al Gold Soccer, con comunque giocatori come abbiamo detto sempre di Serie A e tanti altri, tra l'altro ieri è stato anche primato al Galà del Meeting estate, da altri calciatori molto importanti. Sì, vengo proprio da ieri sera, devo ringraziare l'avvocato Campana che insieme a Lucia Buono hanno scelto me come rappresentante italiano dei talenti che si sono stati espressi migliori in questi ultimi anni e quindi sono stato primato come talento isolano nello sport per l'italiano. Ieri è stata davvero una serata molto importante e davvero sono stato molto entusiasta anche perché inorgogliutisci sempre di cercare di portare sempre il nome dell'isola nel mondo e in tutta Italia e questo è stato davvero molto importante. Poi era un premio fra il play che comunque riguardava proprio le motivazioni e i valori dello sport e di cui io sicuramente sono uno di quelli che più vuole che vengono espressi nel migliore dei modi, specie quando si fa sport ad alto livello. Farei parte del Gold Soccer, della squadra delle vecchie glorie e giocherai comunque con giocatori davvero importanti. Sì, questo è davvero un enorme piacere, devo ringraziare l'organizzazione e l'associazione Gold Soccer che mi abbia chiamato e sicuramente in questo periodo riuscirò a stare qua almeno per la fase importante del torneo. Poi giocare con grandi colciatori davvero è molto piacevole, io molte volte mi è già capitato di farlo in Nord Italia e devo dire la verità che comunque ci si diverte molto e poi sempre calcio, sempre a livello agonistico. In occasione di acquista Gold Soccer dobbiamo ringraziare a Cristiano Ronaldo che comunque ha donato alla Gold Soccer Association che organizza il torneo a Barano la maglia, come potete ben vedere, autografata dallo stesso mito che tutti quanti emplaticamente ammiriamo. Questa maglia sarà praticamente fattore di lotteria, quindi sarà una beneficenza che verrà effettuata per tutte le donazioni che verranno fatte appunto per la lotteria della Gold Soccer e questa sarà data in beneficenza alla persona che verrà estratta con il suo numero fortunato. Sul lungomare di Misano Adriatico dal 30 maggio al primo giugno oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia sono stati impegnati per i campionati di nuoto di salvamento di categoria. L'AS di Aura Sischia ha partecipato ai campionati italiani con ben 7 atleti isolani che sono riusciti a conquistare 7 medaglie di cui 5 ori con Mira Boccanfuso, Davide Iacono e Giuseppe Peniello, un argento con Filippo Perrella, un bronzo con Manuel Calize. In conclusione Laura Sischia si è piazzata all'ottavo posto nella classifica di società di categoria ragazzi e al tredicesimo posto nella categoria senior, un risultato storico per la società allenata dal direttore tecnico Carlo Picconi. Parliamo adesso di pallanuoto, neanche l'Antares Latina, squadra che ad inizio stagione era data dagli addetti ai lavori come la più quotata per la promozione finale, è riuscita a fermare la corsa della Diorio Elettrodomestici Ischia Marine Club, uscita vincitrice per 9 a 6 nella prima metà della gara, ha regnato l'equilibrio più assoluto con continui capovolgimenti di fronte che vedono protagoniste le difese, ma con il passare dei minuti la squadra isolana ha saputo imporre il proprio gioco grazie ai fenomeni di cui dispone. Sabato prossimo 8 giugno alle ore 15.30 nella piscina galante di Scampia, la Diorio Elettrodomestici Ischia Marine Club dovrà superare l'ultimo ostacolo che si frappone tra loro ed il record di scampia. di imbattibilità stagionale, il nuoto 2000. E anche l'SSC Napoli ha ricordato il suo ex calciatore Mario Perego scomparso ad Ischia sabato primo giugno. Sul profilo Twitter della società azzurra come vedete si legge infatti nei giorni scorsi è mancato un vecchio calciatore del Napoli, Mario Perego, che giocò con la maglia azzurra nel campionato 71-72. Vogliamo ricordarlo con affetto e siamo vicini ai suoi cari. Previsti in questa settimana gli eventi conclusivi del progetto formativo di educazione alla cittadinanza attiva Il Viaggio nella Grande Bellezza del Rispetto realizzato dall'Istituto Comprensivo Anna Baldino di Barano. Domani, mercoledì 5 giugno alle 17.30 ci sarà la mostra fotografica degli alunni della scuola secondaria di primo grado presso l'auditorium della parrocchia di Fiaiano giovedì 6 giugno alle ore 20 in piazza San Rocco, la rappresentazione teatrale, i miti e le metamorfosi dal poema di Ovidio, istruzioni per il cambiamento. E da domani fino al mese di settembre ogni mercoledì sera si terrà l'evento Casa Micciola in festa che interesserà Piazza Marina e Corso Luigi Manzi fino all'incrocio con Via Monte della Misericordia. Per questo motivo è stato disposto lo stop motori con il divieto di circolazione e sosta dalle 20.30 all'una di notte da Via Principessa Margherita all'altezza dell'hotel Gran Paradiso fino a Via Monte della Misericordia. Il divieto si applica anche agli abitanti del ZTL quindi attenzione il mercoledì sera. Ed ora le previsioni del tempo. Per domani al mattino sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna molte nubi con deboli pioggia intermittente. Nel pomeriggio sulle coste nubi irregolari con deboli temporali. In montagna schiarite alternate a nubi sparse. Questo è il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Dopo il telegiornale ci sarà lo speciale dedicato alla cantina di Pasquale Cenatiempo che è stato selezionato. Abbiamo detto nel telegiornale tra i migliori vini bianchi, 50 vini bianchi del mondo con il suo Calimera. Dopodiché ci sarà il classico rotocalco in città. Grazie per l'attenzione. L'informazione su Teleischia ritorna domani alle 14. Grazie. 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 Grazie.